signori e signori bentornati nella nella serie più leggendare della storia sono tornati nella scalata del bronzo in compagnia mia c'è riccardo detto cugino rap presentati ciao a tutti ragazzi sono riccardo il cugino di riccardo ecco è un vero piacere averti qua con me o ci sarà anche il buon maurio ovviamente scontato dirlo però ovviamente lui è un ingegnere quindi deve studiare capito e anziché venire qua con me a registrare ce ne faremo una ragione allora nuova scalata sarà tutta uncut e tutta su questo canale sappiate che sarà inedita non l'avrete in live la vedrete soltanto qua sarà appuntamento settimanale 1 massimo 2 episodi a settimana perché sennò che cazzo se faccio un video al giorno che senso ha perché uncut deve essere il canale dove vengono depositati tutti gli uncut presi dalle live più questa serie speciale vi dico subito fin da subito che questo account dark napos che avete già sentito diverse volte in live è bronzo 5 meno 11 lp perché non ci facciamo mancare niente possiamo startare allora dunque è indeciso se mettere oppure no la champion select alla fine ho pensato sti cazzi la metto se magari voi non siete interessati potete schippare ma io vi consiglio di non farlo perché in genere nelle champ select succede sempre qualcosa di strano dunque allora la bottling che ripropiamo che vi proponiamo oggi che non per forza essere una bottling cioè nel senso oggi una bottling magari andremo o sicuramente andremo anche in altre lane sarà e ricordamela singed a mumu singed a mumu ecco voi chiedete ma perché fai che singed a mumu perché sì cioè non c'è un motivo perché sì con quale miglior champion quale quale poteva essere il miglior c'è in più per iniziare la scalata nuova se non singed bottling cioè capite anche voi allora diciamo io vorrei fare una cosa come abbiamo fatto quella volta la diciamo di ban di bannare non è vai adesso vai inizia inizia a te prego guys new in new patch eh bisogna bannare subito non è è ragione anche te e diana ban non è you will get more lp ma non c'è nessuno è incredibile vedere anche a chi ecco è un bannato di arco si infatti report madonna banna non è report cattivi e l'avevo detto ragazzi in champ select a questo e lo siamo a bronzo 5-11 lp con mmr 681 cioè se considerate che l'emmr medio prendendo 5 800 noi siamo esattamente al livello di un bronzo 7 ho detto tutto vabbè rogue shiroe e allora viva la patata ma davvero devono chiamarsi così stesse merda dire aspetta fammi mettere il mio il mio nome preferito anal fisting che chi per chi di voi segue la scalata fin da sempre sa bene da dove viene questo nome qua if you don't ban uguale no win uguale no lp a qui se non banni per dire cioè se non banni non vinci c'è strano se non banni ti fanno uscire evidentemente mannaggia allora io devo prendere singed si a sua muopi quando lo giocavi tu in mid prendevi l'electro cute eh si è la cosa che è l'unica cosa che worka sinceramente devi shottare quindi si report all must ok guys report all aspetta mek to rajpur rin fammi andare a tradurre allora apriamo google traduttore allora fraseli e cos'è francese si francese french eccolo qua sei arrabbiato per il risentimento ci suggerisce google traduttore per caso tu sei arrabbiato per il risentimento eh in effetti si metti un'altra rune metti un'altra spell presto che poi pensano che vai giungo non hanno bannato non e quindi sono triste eh ci hanno ragione effettivamente aspetta io chi cazzo metto bot report eh oh tutti non so se mettere aerei effettivamente si dai aerei poi metto nimbus clock il salere ti fa cagare adesso non so se prima si dai prendiamo lo stesso e direi boh gathering storm no dai mettiamo lo scotch come secondario mettiamo il resolve con il bone plating e il vitalize è buono effettivamente mentre il 5% tutto il cure ma no dai il chrysalis chrysalis o come cazzo si chiama questo qua vai troll no ganks vai ha detto che non ci ganka bene bene così fa fidare gli altri esatto meno male per una volta ma vedete questa c'è proprio la mentalità che non vuoi vincere cioè nel senso noi stiamo trollando secondo te siamo in difficoltà quindi non ci ganchi per far rispetto ma cioè nel senso il rispetto che ci puoi fare è perdere la partita quindi tu non vuoi vincere la partita è questa la sua logica non capisco c'è capito in poche parole visto che noi abbiamo una bot troll lui non ci ganka così ci ci fa perdere e di conseguenza è uno svantaggio per lui ma la parte che noi vogliamo perdere allora lui perde ancora di più ecco è una perdo di più io infatti ex silver buttato qua nel bronzo 5 capisci già tante cose da questo analizziamo un attimo le le rune direi che a su pike sinceramente non non lo so questo questo affare qua se il conqueror se buono non credo secondo me non credo per niente però non importa questo è maveri forse che in jase master i7 l'honor c'è un honor pure alto quindi gg cosa ci fa qui in bronzo 5 ah non lo so guarda mauri cosa ci fai in bronzo 5 raccontaci e irelia col conqueror penso sia forte non lo so ma la sembra c'è nel loro team sembra tutte corrette ma sì ma le cose strane si ma non ci sono quelle cose strane il tipo morgana col grasp c'ha la faccio vedere infatti è che ormai ci sono talmente tante fonti dove puoi trovare le rune per i champion che la gente va lì pro builds opgg quelle cose lì no ci sono migliaia di siti ormai anche i bronzo 5 hai ragione le fanno giuste anche questo pike che secondo me il conqueror non va bene nemmeno secondo me però dice è la runa più nuova mettiamo questa dai meglio questa che quell'altra che quella che dà l'attack speed vero perché pike sarebbe sarebbe un assassino non un bruiser normale visto che non può buildare anche perché comunque in giungla quindi non so cosa se ne faccia vediamo su pgg cosa ci suggeriscono allora e di là abbiamo è impossibile è impossibile il loro udir al 4 per cento di wear it cioè una partita su 25 giocate apparentemente una win 24 lose com'è possibile aspetta ma fammi vedere speriamo che non ce la trolli non ce la inti intenzialmente sennò diventa ma non sembra che la inti c'è fa 0 3 5 6 2 3 sembrano cose normali ah no 5 mesi fa giorno dati che cazzo vediamo un po come è successo no cioè lui gioca normalmente 2 3 3 5 6 6 1 3 3 0 3 3 5 7 si chiama soltanto non avere le mani come è possibile adesso aspettate ve lo faccio a non ho il cattura desktop purtroppo forse posso cattura e schermo ok desktop non so magari sembra che si impegna anche in questo cioè guardate a una win 24 lose e ha soltanto adesso me ne fa vedere altre però vedete c'è non è tipo 0 20 quindi non sembra stentando a parte quando ho usato la cometa vabbè ce ne faremo una ragione allora direi doppio relic questo serve per fare i soldi ragazzi raccomando per qualsiasi bot a meno che ovviamente a meno che ovviamente non prendiate cose del tipo due champion full appear agent che ne so brand n insomma lì è un po impossibile però se prendete due champion mili mi raccomando il doppio relic ve lo consiglio anche nel caso usaste vladimir molto forte non vuole che lo pulliamo o no scusate e invece si i don't need help niente fra un po inizio a pingare neanche per favore get the fuck off vabbè basta andiamo via is this the attitude guarda vabbè lo sa ricco davvero vuoi pullare no 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 battene via bravo vattene ecco se n'è andato vabbè guarda che sta tornando mamma mia adesso guarda guarda col pinguino vai ecco niente niente boba boba che sta a vedere cos'è non vuole che lo pulliamo al guardalo non vuole che lo pulliamo al sta perdendo un sacco di tempo vabbè vabbè come mi ha preso oh ma che è bene sono i danni gg vabbè meno male che abbiamo paio oh grande maori maori è davvero lui è davvero lui è lui è lui è maori dopo questa non ha la certezza comunque non dormire la notte per la cosa di questo pike qua ah che belli i danni di emu 50 di danno ok dai e io ho la cu vattene maori ti sbuff guarda ma gli ruba tutto e qua è di zappingare ding ding l'attitude del bronzo 5 ragazzi è meraviglioso forse sei al minion dematerializer sai ci avrebbe fatto comodo aspetta aspetta ce l'hai la stack per il carretto mh metà ci arriva ci arriva lasciali pushare rompiamoli aspetta che gli rompo un po' il cazzo con i ping più fastidiosi del mondo e c'ho la no non ci arrivo ad avere la stack lo prendo die ok così mi sono assicurato hai visto il nerf di singed eh sì sì l'ho visto più che altro early game perché la ulti dà più stazza e le hate però sì la differenza è quella che è c'ho la stack ok non è mai stato potente per il suo early quindi no infatti c'è stato un periodo in cui era molto forte anche early dipendeva più che altro dal meta morgana può essere dove sarà morgana ah tra l'altro è vero forse dovevamo bannarla morgana invece che bannarnone perché ma no dai ma sì ma è scarsa vabbè occhio che c'è il jungler siamo una bella ward già morgana si avvicina troppo per i miei gusti mio eh non ci arriva la torre da lì credi no evidentemente no attenzione top lane ok no è scappato la prenderanno io voglio vedere cosa fanno anche le altre lane perché è un po' noioso guarda solo la botte cioè non dobbiamo fare nulla più che altro cos'è quella cosa che hai lì quale cosa? no aspetta che role mi sono messo sto cercando di capire il perché unità ah ma è la mia passiva a me sa ma prendi il caretto? no ah no ok ce l'ho io c'è le tue è scarsissima sta morgana mi prende con tutte le q cazzo è scarsa però prende tutte le q siamo noi che ci andiamo dentro noi siamo più scarsi vai prendo il caretto niente vai ce ne faremo una ragione ce ne faremo una ragione dico solo questo ok vabbè aspetteremo il livello 6 secondo me Pyke and Ravk è breve non so perché come questa impressione nobiuo nobiuo noob omge ma qua si danno del noob fuck off report mute next big noob ma che ma perché siamo finiti in mezzo a sta gente ma gank mid e animore e dove li fai i gank solo top adesso bot non li fa prescindere mid non li vuole più fare e niente quindi solo top basta vabbè gank non li farà più neppure lì e va niente staff esatto please don't gank anymore gank bot please andiamo andiamo ma si incazza sta a vedere no 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 ci stavo per entrare dentro prendo il carretto ok io gli ho chiesto se ci ganka bot però non ottengo risposta anche per favore esatto anche per favore gli ho chiesto sto pensando di andare back di comprarmi il relic potenziato io santo sta morgana ma come fa a essere qui cioè davvero oppressiva poi non ha finito il mana con quante q avrà fatto prima o poi io abbiamo fatto il 5 aspettiamo il 6 attenzione oh ha gankato mid è un pusillanime ci ha preso in giro niente è incoerente allora gankerà anche noi eh sì noi no noi se siamo singhede a mumu non meritiamo il gang guardiamo il gana ma cos'era questo black shit eh infatti cioè è scarsa in q lo siamo noi che finivano dentro le q come degli idioti ok maxi la e ovviamente forse la q è meglio sto maxando la e sto maxando la e giusto perché ho visto che avevano difficoltà a fermare quindi ricordati che la q è quella che fa più danno sì sì attenzione pike vado ad aiutarlo vado ad aiutare pike andiamo andiamo così dopo ci ganka dobbiamo ottenere il suo rispetto va bene va bene ho messato la q va bene ah manco una kill l'abbiamo fatta niente pensavo avessimo preso almeno morgana oh è questa oh mio no l'ha preso vai ok lei è morta io pure eh mi disp c'ho qualcosa c'ho un po' di veleno per dargli fastidio anenimi anenimi e purtroppo non ho mana vai l'ho avvelenato tutto ciò che posso fare non ho mana peraltro vabbè ecco torna jessi ma quanto sono lunghi i fight in questo elo finché non finiscono il mare finché non finisco la vita altro che finché non si finisce la vita i fight possono continuare io però effettivamente non essendo diciamo originario di questo elo no però gg good job pike glielo ho scritto io gg ah no non in chatola aspetta ecco ah bene facciamo vedere quanto siamo felici ma tanto ci ha mutato perché lo pingavo quindi mi ha mutato tutto mi ha fatto un full mute vai prendo questo o do back sono deciso sai cosa mi faccio quasi quasi mi faccio la arrivo possiamo farci qualcosa no ho la r oh che bello no 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 c'è vallus sono ancora lì a fightare sono tornato qui allora io andrei back quasi quasi mi prendo la goccia la sai perché effettivamente adesso con con il buff che hanno fatto all'arcangelic mi sembra molto forte ah e vai essendo che si stacca subito su sing poi potenzio questo mi prendo le scarpe e mi prendo anche e boh potrei farmi adesso allora adesso aspetto per prendermi della vita ma cosa state scrivendo no evidentemente vai che ha ultrato qualcuno e non è morto e quindi basta incredibile hanno fightato per mezz'ora chissà quanti soldi avevano poteva andare back invece no 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 aveva ancora abbastanza e ovviamente quando si muore bisogna flammare tipico vai guarda come sto staccando bene la goccia guarda che abbiamo il 6 possiamo fare qualcosa se vuoi ingaggio non so come sono messa flash si si boh proviamoci secondo me era addirittura esagerata si non so se aveva il flash quindi ho usato tutto bello stoppo ci devo dire anenemy oh è viva che palle potrebbe arrivare il mid laner pensa pike bravo oh bravo ragazzo alla fine ci ha gankato hai visto è incoerente abbiamo guadagnato il suo rispetto eh si no 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 ciao adesso col minimo è colpa nostra no dai oh dai l'ha capito non pensavo eh io c'ho ancora l'exostante se gli altri fanno le skill è colpa nostra no c'è udire ancora eh bene va bene succede niente state lì la pvd singed è bellissima ah ma io tipo è tipo la mia passiva tanto slow la pvd singed se non sbaglio un bel po' la pvd singed slow no del 40% una volta slow tantissimo però adesso non possono flashare o fare dash è vero come quella di di cassio è quella di trinda che slow tantissimo a caso proprio quella di nasus anche vai quella di nasus si prova quella di trinda proprio ad area oh ma allora non ha capito un cazzo questo niente morgano non c'è vai piatelo ah e vedi la passiva è bellissima perché mi avvicino più velocemente a lui vai pure lei bot troll bot troll bot troll omg eh vieni da me ci avrà visti sei pronto? una mana mi vado dall'altra parte addio guardalo guardalo niente eh vai io non posso far più nulla vai tranquillo ah niente ha flashato vabbè devo attivarla ulti prima però ho finito il mana proprio quando voglio attivarla per fare quella w ho finito il mana purtroppo vabbè poco male allora vediamo un po' il loro team mid cosa dice cosa dice morgana morgana sai che quasi quasi metto un po' la musica del gioco non so se metterla sinceramente sto pensando che cazzo fare si direi le scarpe armor ma che cazzo me ne frega mi faccio le sorcerer dai oh io la musica del gioco ce l'ho al 10% sì sì giusto per tenere per tenere qua ma anch'io adesso me la metto perché insomma un pochino nei momenti di silenzio magari esatto almeno ti tiene un po' compagnia eppure è rilassante la musica di lol ragazzi la musica di lol è rilassantissima sto arrivando ingaggiali sono un po' troppi minion non sono mai abbastanza vai prendilo aspettando che finisca questa cosa vai oh guarda che sta arrivando quello che non ci gancava ottimo è passato da quello che non ci gancava a quello che viene a prendere killing bot fuck too much cc eh black shield è black shield è black shield lo sito su varus e ne ha fatto un cazzo vedi come cambia un'idea incredibile sta cosa diglielo cazzo eh ma non funzionano avete troppi il carretto eh non ce l'ho ah no ce l'ho sì sì eh purtroppo il veleno fa un po' che il cazzo che gli pare ah ce l'ho io no no ok ok ce l'abbiamo provato ce l'abbiamo provato allora sei pronto anche se non è la ulti sti cazzi penso che ce la facciamo lo stesso no ma come fa a guardarlo lì ma in bronzo sa per fare quello vabbè niente vabbè vattene vattene ma oh il drake si è fatto da solo oltretutto eppure io lo so fare come la mettiamo eh ma l'ora beh qua te bravo ti curo io tranquillo gg paica qua c'è morti tra poco la ulti 10 secondi vabbè ma non serve tanto c'è un cazzo lì qua sto sfigata ah è bellissimo con singh e di bot lane è uno spasso ti giuro vai Yasuo è top no è Udyr vabbè Udyr è top Yasuo non si sa allora che cazzo mi compri guarda Mauri bravo Mauri mamma mia 9-3 Mauri quanto cazzo è forte quell'uomo vai se la stack prendi il carretto noi volevamo volevamo fare due troll in bronzo invece qua siamo in tre eh sì bella avete visto abbiamo detto Mauri arriverà ma è visto è arrivato Mauri ce l'abbiamo già è già qui che ci aspetta è già qui che ci gioca con noi allora a questo punto mi faccio potrei fare per lo Shurelia vai ci sta lo Shurelia però cazzo manca così poco per farmela sì cambia anche il Trinket vai il Trinket lo cambiamo se vendo questa mi mancano no no non posso cazzo ho fatto un Brutback vabbè perché cosa ti manca eh mi mancavano tipo 100 gold per lo Shurelia l'ho venuto aspettare c'era poco da fare lì vabbè vabbè forse il Golem potevi fare no Mauri morendo oddio Mauri adesso ho tirato lei su Yasuo mentre dash unlucky unlucky Mauri sto arrivando ma che cazzo sta arrivando sta arrivando via dovrei salvarmi pare che scrive noobs ce l'ha con loro però non con noi dopo che ha tirato quella bellissima ulti ecco ha funzionato avesse avuto uno Shurelia mi salvavo pensa a te quante cose sarebbero cambiate sì tutto per colpa di quello sembra cazzata è proprio così invece eh a volte ci vuole quella runa lì che ti fa comprare prima gli oggetti eh è vero però non avevo quel ramo lì avevo messo il ramo difensivo top cosa succede? la gente schiatta chi sarebbe il top ma? Akali 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 eh no strano comunque che in bronzo non facciano così tanto schifo cioè in bronzo più che altro a questo elo sì esatto dovrebbe essere l'elo più merda della merda report U di Ravk infatti mi chiedevo dove fossi stavo per chiederlo ecco come fa perdere le partite Ravk tutti i game ma che cazzo eh vabbè oh lo prendo Yasuo? ok è morto dai però Mauri è troppo forte cioè che cazzo vince da solo eh vabbè eh poi hanno uno Ravk eh esatto niente non oh cazzo easy abbiamo scoperto perché Udyr perde tutti i game Ravk fa qualcosina così sembra che abbia fatto qualcosa eh ahhhh mi ha fatto slowarmi così vai ho dovuto ultare hai fatto bene era necessario sì le partite che finiscono se sono così in fretta sono sono brutte però 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 la meno il video per chi lo vuole vedere esatto ci sta un blu in realtà io c'ho la goccia quindi non mi serve a me potrebbe servire e piacere va bene quanto son messo con la goccia c'ho già 400 di mano te lo lascio che c'ho il veleno ok vieni qua che c'ho le stack adesso teoricamente dovrebbe arrivare qualcuno dico bene no non arriva nessuno uh eccolo vai tieni pike ecco visto team play facciamo un po' di emote ste emote del pinguino la trovate in una cassa è bellissima sembra che trolli proprio è effettivamente molto troll sì confermo ecco fai incazzare lui rubagli quello ecco almeno si incazza un po' ah go troll il game è talmente vinto che nemmeno uno come pike può arrabbiarsi è incredibile sì sì basta così poco arrivo no ahhh volevi salvarti eh voleva salvarsi molto spaventato quel virus sì ciao oh non è manca morto ecco c'è creduto anche lui la ww di singh ed è la mia skill preferita comunque è veramente fantastica dai dai arrivo vado dei asuri vai ma non puoi più lasciare sì le ho pianto addosso ma io c'è l'ottivo sì il veleno attivo mamma mia maori che aiuta così fa il suo lavoro proprio maori gli stiamo dando doppio relica a tutta lui lì al centro a prendersi tutto singed tu pu cosa vuol dire non lo so ma magari ma non penso mi stai insultando che non so cosa vuol dire attenzio yasu 1 v9 la vita di noi e poi c'è red così puoi recuperare la vita lo uccidi? eh no perché me l'hai tolto dal veleno ora muo attimo tupu non so cosa vuol dire però va bene tupu vai è che bisognerebbe far incazzare qualcuno perché se non si incazza nessuno va troppo liscia l'attività e intanto che cazzo cioè guarda lì allora aspetta mi faccio si è muo p e tanta tanta roba sto pensando che cazzo farmi ah beh rely giusto devo farmi il rely la cosa più giusta da fare mo si va poi io ogni tanto guardo l'altro schermo perché dico vediamo cosa dice la chat ah ma non sono in streaming non c'è la chat non c'è la chat ragazzi scrivete nei commenti facendo finta di essere in chat per te c'è la telecronaca della partita oh finalmente un po' di gente è morta mi sono ammazzato hacker ma perché hacker bastard è proprio in linea con gli strumenti da hacker eh sì sì sta hackerando league of legends infatti lo sta facendo proprio bene va 3-5 molto molto hacker sapeva che ero lì dentro ma vanno tutti da maori no io zoom qua da qua oh il windwall stai pure lì ah e mo gli diamo fastidio atteneli oh cazzo via non me l'aspettavo effettivamente mi vuole così mi vuole così male che voleva cazzo c'ha quello per ridurre le cure ecco perché cazzo è forte sto Yasuo quanto mi manca la goccia ormai è ormai è fatta ok arrivo guarda come scappa la troia guarda come scappa scappa e a noi va bene così vai c'ho anche l'attiva dell'arcangelic tu che fai bait oh guarda qua vado a uccidere questi rip è il bel modo di ammazzare la gente con le danni nel tempo tipo il veleno o il pianto qua hacker cure cos'è cure adesso? non lo so tour forse no è troppo distante dall'hack adesso allora non lo so non lo sapevo mai parlano in lingue strane in codice no maori arrivo a vendicarti ah 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 eh eh mio dio ah vieni qua non ho molta vita non ho niente vorrei ammazzare quella che c'ho la r eh lo showy mi si è sbloccato tardi purtroppo ah devo buildarmi il rely giusto devo scapparmi baros con questa vita non ha la ulti se non back i minion te lo fai vabbè non c'è khali pensa lei beh potevi prendertela la kill devo aiutarla con i relia guarda un po' di danno ecco ha workato direi no non ha workato molto bene peccato eh vabbè ce ne faremo una ragione adesso avendo la giusta support basta mi compro il rabadon Woody Ruff che nobody cares guarda quanto è tossico Pyke cazzo che brutta gente che c'è su sto gioco comunque sempre peggio in questo elo qua si vabbè in questo elo si anche un motivo poi si c'è anche gente brutta di nero alto però magari non così no ma che poi cioè nel senso è abbastanza è certa sta cosa che chi flabba perde più game cioè se giochi più che altro non chi flabba ma chi gioca con un'attitude così perché gioca anche da più scazzato e giocare da scazzati ti impegni meno oltre a quello sono anche sempre distratti a pensare a scrivere ste stronzate ogni volta che muoiono A noob e tutte ste stronzate qua è mio bastardo eh vabbè non è più mio sta arrivando sta arrivando c'è Varus c'è Varus Varus la front lane si pinguino guarda maori intanto fa i cazzi suoi bravo maori pusha cazzo ah la torre top e la botta l'ha fatta lui e e te vi è qua vai tanco io ragazzi tranquillo forse ho tankato un po' troppo no e vabbè de più de più attacchami da più lontano cazzo ma dove ho mai tato tipo qua e mi ha targhettato ma che cazzo eh ti serve lo zoning in questi casi vabbè gg non finire vai via scappa scappa lasciali finire se riescono o se muoiono meglio ancora vai che c'è Yasuo pensa a lui ecco Yasuo pai che sembra divertente ma trollare con pai che è impossibile cioè pai che è divertente appunto perché vai in giro a shottare così ma non è che puoi fare vedi è figo perché fa queste cose qua però cioè non credo abbia degli scaling a p per trollare no solo a D vita non vuoi buildarlo se non sbaglio eh viene trasformata in a D potresti fare un paio che prendi solo oggetti HP e vedi tanto ti da di lo stesso hai ragione ci si potrebbe pensare ma vabbè questa è stata la partita è un build 5 un pochino strano effettivamente perché mi aspettavo un pochino di un po' più di scemenza rispetto agli anni scorsi effettivamente gli anni scorsi erano tutti più scarsi non so perché eh vabbè vedremo andando avanti di scalata ragazzi vedremo vediamo un po' i danni tu sarai top damage no maori top damage maori ha rotti i culi qua i danni di udire ma udire non ha fatto un cazzo ecco perché perde vai riportiamolo per africa almeno quello eh vabbè ragazzi io direi che la partita è finita il video è finito vi aspetto in live ovviamente tutti i link li metto in descrizione anche cioè in realtà il link della live è in descrizione di tutti i video perché li metti in automatico twitch però adesso inizio a mettere anche i social se volete seguire su instagram il primo canale tutte queste cose qua quindi il video è finito noi ci becchiamo con l'uncut di domani perché tanto esce un'uncut al giorno ci becchiamo in live mi raccomando lasciate un bel like per il ritorno della serie bella